Una tecnologia nuova, tuttora in continua evoluzione, ma già pronta per contrastare anche in Italia la diffusione delle varianti Covid e dei virus respiratori più comuni, come ad esempio l'influenza stagionale. Si tratta della tecnologia E4Shield, usata per i nuovi dispositivi intelligenti E4Life. Un brevetto italiano la cui attendibilità è stata scientificamente testata con un'efficacia certificata superiore al 90%, innocua per l'uomo e gli animali. La tecnologia, lanciata sul mercato da E4Life, joint venture nata tra Health Group, azienda leader mondiale nei sistemi di difesa elettronica e land lease, impresa specializzata in grandi progetti urbani, per la prima volta al mondo ha generato un sistema di sanificazione tramite microonde. E4Life è una joint venture tra land lease ed elettronica. Nasce per avere la possibilità di sviluppare ulteriormente una tecnologia sviluppata nel periodo del Covid. Il periodo del Covid lo ricordiamo tutti con tutte le sue brutture. In quel frangente elettronica ha studiato, partendo da un articolo comparso su Nature, come contrastare il virus sulla base delle onde elettromagnetiche. L'elettronica lavora con le onde elettromagnetiche e il suo core business, quindi partendo da quello ha individuato la giusta frequenza per mandare in risonanza la capside esterna dei virus. Mandando in risonanza esplode questa membrana esterna ed esplodendo il virus non è più in grado di infettare gli organismi. I dispositivi sono stati realizzati in versione portatile da indossare durante gli spostamenti e in luoghi affollati o in versione fissa da posizionare in ambienti chiusi come uffici, sale, riunioni o abitazioni. Il portatile che noi chiamiamo i4U è un oggetto piccolo di 8 cm per 8, un quadrato, efficace nei confronti dei virus respiratori, certificato CE, certificato SAR, può essere indossato, è assolutamente innocuo, può essere tenuto addosso per 7 giorni su 7 H24 e crea una bolla di protezione intorno a chi lo porta e le persone vicine. L'altra versione che chiamiamo i4Ambient è una versione da parete o da soffitto pensata per gli ambienti, pensata in radia frontalmente, copre circa 50 metri quadrati. L'efficacia chiaramente non è limitata alla singola stanza in quanto le onde elettromagnetiche si propagano anche attraverso i muri, quindi a seconda degli spazi che vogliamo coprire sarà efficace per una stanza, due stanze, tre stanze a seconda delle dimensioni. La tecnologia si basa sulla efficacia delle onde elettromagnetiche nei confronti dei virus, quindi le onde elettromagnetiche ad una frequenza individuata, oggetto di specifico brevetto, alla potenza giusta, riescono a inattivare i virus presenti nell'aria. La tecnologia messa a punto da i4Life risponde a precise esigenze e preoccupazioni tuttora diffuse negli italiani, come attesta una recente indagine condotta per i4Life da Digimind, piattaforma specializzata in market intelligence e social media listening. Sul web e sui social network, anche a due anni dalla fine della pandemia, nel primo semestre del 2023 sono state registrate più di 100.000 menzioni su Covid ed influenza.